Ha proposto ai presidenti Rossi e Compacer di far fronte comune contro i tagli del governo Renzi. Sul tema è intervenuta oggi a Bolzano la Lega del Trentino Alto Adige. Lucio Giudice Andrea. Palazzo Chigi deve trattare con le province di Bolzano e Trento per arrivare ad una definizione certa dei finanziamenti alle autonomie. Altrimenti, dice il senatore Carl Zeller, dopo aver partecipato ad un incontro con il governo, i parlamentari della SVP potrebbero anche negare il loro appoggio al governo Renzi e rivedere il patto con il Partito Democratico. E anche la Lega Nord prende posizione sui rapporti finanziari con Roma. Il governo italiano, dice il consigliere Maurizio Fugatti, finora ha tagliato con vari provvedimenti 6 miliardi alle due autonomie, contravvenendo al patto di Milano. Le due province hanno presentato ogni volta ricorsi alla Corte Costituzionale. Quei ricorsi si possono ritirare, dice la Lega, ma solo se c'è un patto che dia sicurezza sul finanziamento delle autonomie.